dal covid avevo già la febbre che saliva, quindi il cervello stava andando, però una cliente mi ha posto una questione rapida, urgente e a me è venuto in mente verme, perché era l'articolo e mi sono fidata, mi sono ricordata, praticamente in due secondi avevo risolto la situazione nonostante il cervello fosse bruciato, perché era bruciato proprio, quindi effettivamente la tecnica era un articolo che mi ero appuntata mentalmente in quel modo lì.